Tutto ok? Abbiamo fatto una piccola riunione familiare, sto per vomitare, e abbiamo convenuto sul fatto che non andrò a cena. Oh mio Dio! È passato la barca e sta ballando tutto. Mio Dio! E quindi non andrò a cena. Ma perché non sto bene? Cosa mangerò? Niente raga, non ho fame. Non puoi vomitare su Twitch. Oh! Va bene, sono a stomaco vuoto. Quindi non è un problema. Era incazzata? Credo che dovrò farmi perdonare, però ci sta raga, dai, su. Dai, una sera. Una sera! Una sera senza andare fuori a cena, dai, su. Non è che casca al mondo. Cioè, ci sta. No, al tour dello yacht per il content non ve lo faccio perché se ve lo faccio domani mattina c'ho 750 articoli, fedez, mostra lo yacht! No, non lo faccio. Sgarbi è un muschio selvaggio. Ma Sgarbi, raga, che problema ha con me? È ossessionato. Fa 700.000 post video contro di me. Sono ossessionato. Ha pubblicato... ha pubblicato il... la foto mia di Luis col costumino. con degli insulti. Che io invece speravo apprezzasse perché lui è celebre per per farsi fotografare l'intento a defecare. Quindi... forse perché non c'erano delle deiezioni di mezzo. Non gli è piaciuta la foto. Vabbè, quindi la chat è diventata persone a casa da invitare a muschio. No. Tutto bene. Tra un po' dovrò fare la pipì. Fumi con nicotina? Sì, fumo con nicotina. Bassa ma con nicotina. Scusate, entro. Eh, la madonna, ma che freddo fa. I bimbi... i bimbi sono a casa. Che posa da vecchio. Ma che... che posa... che posa da vecchio? Cioè, sono... sono sdraiato. Ti piace Capri? Molto bella Capri. Sono un sacco di... americani e russi. C'era la... Oggi abbiamo visto lo yacht di Philip Stark. Disegnato a Philip Stark. Non so se qualcuno interessa. Non che mai interessi particolarmente la cosa. C'è Devin Booker, lo so. Si chiama David Booker, non Devin. Si chiama Devin Booker. No, non... non ve lo faccio il tour, raga. David Beckham? Tony Stark? Devin, è veri? Si chiama Devin. Tu hai un capitano. Si, abbiamo un capitano molto simpatico. Il staff credo sia francese. Credo. Non lo so. Si. Ma parlano inglese. Però si, no, sono francesi. Raga, devo fare la pipì. Vi metto la live... Vi metto la live da qualche parte e faccio la pipì. Ve la metto qua. Qua così. Faccio la pipì. Arrivo. Sì. Patrini. Dì. Grazie a tutti. E' passato un uomo nudo? Non credo. Non è possibile che ci siano uomini nudi a bordo. Non è possibile. Non ci credo, raga. Ormai sono uno streamer navigato. Sono uno streamer navigato, non ci casco. Non casco più ai vostri giochetti da chat. Come ero in mutande, ma raga no, non è possibile. Oh mio Dio, raga, c'è un sonno. Non avete idea. Non si sta andando con i capelli bianchi. Ero io, allora. Cosa posso fare con... Non posso giocare a nessun gioco io col telefono. Su Twitch. Non posso fare niente. Ma dove, raga, il... Il vomito... Cioè, la sensazione col vomito è costante, comunque. Non vai a cena? No. Però magari ci ripenso e faccio una sorpresa. Le faccio una sorpresa. Eh? Gli ho detto che non vado. Ma adesso chiamo e vado e le faccio una sorpresa. Vado Irl. Secondo me non mi prende il telefono. Io potrei anche provare a farlo Irl, eh. Non ho problemi. Dai, facciamo questo content. Sorpresa a mia moglie. Eh? Dai, dai, facciamo sorpresa a Irl. Allora, vado a parlare con il capitano. Che non so dov'è. Andiamo a cercare il capitano. Oh mio Dio. Capitano? Capitano? Summer, sorry. Can I ask you? Where is the captain? Uh, he's downstairs. Ah, he's downstairs. Sleep. No, no, no. Do you need him? I'll call him. Uh, no, no, no. No, I can do it. Can I get you anything? Uh, no, I'm good. Thank you so much. He's in his room, so if you want to speak to him, I'll send him up. Uh, no, it's okay. It's okay. Thank you, thank you. Okay, non, il capitano è... Il capitano è a dormire. Allora, come, top inglese, raga? Sì, si chiama Summer, la ragazza. Perché sulla nave è con noi, si chiama Summer. Che cazzo volete, raga? Allora, ehm... Okay. Dobbiamo riprogettare questa sorpresa. Mi fermo anche a comprare dei fiori, magari. Più è il jet ski. Okay, allora facciamo così. Okay, chiamo una persona. Arrivo, arrivo.